guardate qui che bei funghettini questi non li ho mai trovati è la prima volta in tutta la mia vita che li trovo grossi così cioè ma guardate che roba guardate la mia mano tanto per rendere l'idea e questo qui e questo tanto per rendere l'idea no ok poi si rifà si rifotografa quello e poi cioè tanto per rendere l'idea giustamente della dimensione ore 11 e tutto va bene